Entro le 12 di venerdì prossimo 30 dicembre si potranno presentare le istanze per partecipare al bando finalizzato a sostenere le famiglie con figli disabili che frequentano la scuola. Un bando voluto dal comune di Caltanissetta per quei ragazzi con disabilità che frequentano sia la scuola dell'infanzia, le primarie o le secondarie di grado statali per l'anno scolastico in corso, ovvero 2022-2023. Il bonus sarà utilizzabile per sostenere i costi che le famiglie affrontano accompagnando i figli a scuola, sia con il proprio mezzo che in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato, garantendo così la frequenza scolastica di loro diritto allo studio e all'integrazione. Il modulo è facilmente reperibile e scaricabile dal sito del comune www.comune.caltanissetta.it. Una volta compilato sarà necessario presentare l'istanza entro le 12 di venerdì prossimo.